A pochi giorni dall'inizio del GF VIP condotto da Alfonso Signorini arriva l'ultima lista dei concorrenti pronti a varcare la Porta Rossa. Sulle pagine del settimanale di più vengono confermati i nomi di Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Patrizia De Blanc, Flavia Avento, D'Aia Mello, Francesco Pini, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Petrelli, Enoch Barua, fratello di Mario Balotelli e Andrea Zelletta. Tra le novità figurano l'attrice Miriam Catania, Maria Teresa Ruta, in coppia con la figlia Gwenda Goria, Paolo Brosio, Fausto Leali, Massimiliano Morra, Fulvio Abate, Francesca Pepe, Adua Del Vesco e Matilde Brandi.